Bella a tutti ragazzi e ragazze siamo qui in un nuovo video In questo video faremo una bella challenge ovvero Non so se mi si vede bene In questa challenge faremo che chi dirà Ragazzi in questo video più di 5 volte dovrà darsi uno schiaffo all'altro Quindi il signore qua è ritornato, saluti Buongiorno, salve a tutti Cosa ci dirà in questo video? Che oggi ci prenderemo a sganassone Perché se non rispetterete il discorso del gioco Che praticamente da 1 a 5 volte non bisogna nominare ragazzi Andremo a perdere 5 euro per ogni schiaffo Per cui per ogni volta che si presenta il discorso che uno dice la parola Ragazzi Bravo ecco ha iniziato, ma ti do uno schiaffo Solo due Hai derubato perciò devo avere uno schiaffo in meno Eccolo, me lo rito indietro Adesso siamo pari Anzi sotto pari Ok 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 Uno schiaffo in me Quindi siamo a due Ragazzi speriamo di non prendere schiaffi Perché quando io te lo prendo io a schiaffi Io sai gli do due cepponi a questo A sto professore, guardi Cosa insegna lei? Io insegno Un cazzo Come Niente Sono professore di niente Sono professore e sono il luminario Dunque ragazzi cambio di programma Ieri ho detto nel video che farei Il video quello della cantina abbandonata Ma non è stato così perché nella cantina è troppo sporca Piena di sorci E piena di robe infettive Quindi non l'ho fatto Quindi oggi farò un video molto family friendly E qui il signore deve ricordare se dico la parola Quella che ho detto Vero signore quante volte l'ho detta la parola? Zero volte per un momento No l'hai detto due Hai detto No l'ho detto uno a zero Perché me ne hai dato due a te A me Quindi chi è sta? Che è sta? Uno? Che è sta? Io uno No una a uno In realtà siamo pari perché io te lo dò schiaffo E te hai dato schiaffo E non rompare gli schiaffi degli altri Perché comunque ragazzi da parte di scherzo Dobbiamo stare attenti a non dire quella parola Perché se la diciamo Dopo uno di noi dovrebbe schianciare i soldi Quindi niente scuse E soprattutto mano nel portafoglio Eh È impossibile dire una parola Massimo Massimo bisogna dire Un cazzo Eh Bisogna dire una cosa E bisogna stare attenti a dirla Perché se la dici dopo Ti do uno schiaffo potente Minchia arriva in America Minimo Minimo in America Comunque signore Siamo arrivati al mare? O mancherà altre tre ore di viaggio? Manca un altro pochettino Manca un altro dieci minuti Ma comunque Ma comunque perché andare al mare Se siamo a Quasi a marzo? Perché? Se lo si può spiegare? Perché? Perché oggi è una bella giornata È calda E Qui Versa la parte del mare È tutto aperto Per cui si respira L'aria buona È tutto fresco Si sta benissimo E praticamente Si riesce a camminare anche bene Anche perché oggi C'è lo stop dei veicoli Sia a due ruote Che a quattro ruote Oh puttana troia Sto sole di merda Per cui Non si può camminare In fascia verde E noi dobbiamo girare Intorno alla fascia verde Gira la ruota Eh Gira la ruota E possiamo andare solo In periferia Col veicolo Ah signore Andremo a mangiare qualcosina? Perché? Eh signore Oggi si mangia poco E dobbiamo fare qualche altra cosa Rispetto a camminare Bravo Sì ma prima di andare a mangiare Perché io non ho pranzato Quindi Eh devi aspettare un pochettino No no col cazzo No 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 Oh io c'ho fame Io non ho pranzato Mangiato solamente un formaggio e basta Eh E te potrebbero fatta mangiare no? Capito Eh mi sono svegliato verso le 11 Eh Alle 11 Alle 11 Non si può Non mangiare O fare una ricca Comunque seguitemi su Instagram Mi chiamo Falsa trattino basso Non trattino basso Yt E chi non mi segue È un pirla Capito? E cosa devono fare I nostri iscritti? Eh Devono accendere la campanellina In alto a destra E soprattutto Avete capito? Vuoi che Ripetano di nuovo? Vai Dovete lasciare la campanellina In alto a destra Un like che dice La stessa Ok Dopodiché Procederemo di fare Nuovi video Vi ripasso il professore Ma vaffanculo Il professore Manco non lo farò mai Io Per carità di Dio Dopo i compagni Tutti quanti Che Vi rompono il calzo Vestemmiano E dopo un macello Fare il professore Perché Che è successo? Che sai te cazzo? Ah A moto Comunque Comunque Mi sono portato Una bella pistola Comunque Per fare la rapina Ragazzi Ti dai uno schiaffo Guardate tutti Ecco uno schiaffo Allora D'accordo Quante volte stiamo? A due Due a due? No Due a zero No Due a uno? Due a uno È rimasto poco È rimasto tre volte Che lo dice No Due Che devi dire? Niente Ah ecco Voglio adesso Sei preparato Ragazzi Eh L'ha detto L'ha detto Ecco E un altro Stiamo a due a due Vediamo quante volte Lo ridiremo Oh Che dite? Non si riesce a dire Regà Ah ecco Ho detto regà Ho detto regà Ho detto regà Non vale Non vale Non vale Tre Ecco qua L'ho preso Cerchiamo di non dirlo Cerchiamo di non dirlo E non ditelo neanche voi Ma tanto loro guardano i video Eh Non lo dite perché sennò pure voi bebeccate Uno schiaffo da me Uno schiaffo dietro da lui Direttamente Dal video È proprio difficile È difficile non dirlo regà È difficilissimo Eh Non dirlo Comunque Comunque siamo Tre a due Tre a due Se arriviamo Se arriviamo a Fine video Verso 20 minuti Ehm Staremo in parità Quindi nessuno di due Dovrà dare i soldi All'altro Vediamo chi ci riuscirà Signori Vediamo chi ci riuscirà Ecco Cambio di programma Dirò signori Non la parola Dirò signori Allora signori e signore Signore e signore Sì Ehm Vediamo se riusciamo a A A A A A video video Oppure Bambini e bambine Che ne dite I ragazzi Che i ragazzi Ehm L'hai detto Ehm Eccolo Un altro di nuovo Mi manca uno Uno E partiranno 5 euro Direttamente Dentro la tasca Devo starvi zitto A non farlo più Peccato Ragazzi Ma sai che quest'altro Non conta Perché Io ho detto Ho fatto un esempio Quindi non conta Ehm Ma l'esempio Poi alla fine Tre a due Tre a due Facciamo Tre a due E ne abbono uno Allora Ne devo abbonare Non mi bianca Mi dia Signore Mi dia la possibilità La frego Mi dia la possibilità La possibilità Facciamo che si danno Le possibilità Solo una possibilità Si danno Ah ok Quindi Chi dirà la parola Una possibilità Dopo basta E dopo bisogna C'è stata sconfitta Quindi siamo Tre a due Signori Tre a due Che pazienza Che pazienza Ragazzi Eh l'ha detto Eh l'ha detto E quanto siamo? Tre a tre Tre a tre Oh signori In parità Eh Siamo Praticamente The king Of fastest Stiamo praticamente Sotto Sotto varità Sotto varità Sì È vero Ah Sì Direi Sì Ah E chi dirà la parola Signori Gli dovrò Gli dovrò sparare nel culo Con sta bella pistolona Con proiettili Vedi eh E poi manco spara Però Ci stanno le pallottole Vabbè Sono finti Però I proiettili Fanno male Quelli finti Oh signori Siamo arrivati al mare Quasi 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 Vedi Si caricano tutte le biciclette Oh signori La sfida Si fa difficile La sfida Molto difficile Difficilissima È una sfida All'ultimo sacco Eh Eccoci eh Siamo quasi nell'impresa Ecco Le signorine Fanno in giro Vedi C'hanno sempre un sacco De cavoli da fare A quanto pare Sì eh A quanto pare Sì Eh Ha detto ragazzi Eh Ha detto L'ha detto Quattro Quattro Tre a quattro Eh io ci sento eh Io ci sento Signori Signori Mi sa che il signor Fastes Mi sta fregando Oh signori Cioè Siamo arrivati al mare Cioè Non siamo anche arrivati al mare Però Siamo ancora in macchina Eh sì La strada è molto Molto ambigua Sì Oh signori Comunque Gli si è scoppiata la testa Ok Sì È a mille Se arriviamo a mille iscritti Svellerò il mio vero volto La mascherina Quindi Che solo io So in realtà chi è lui Voi no E lo dovrete scoprire solo Seguendolo su Instagram Sì Il signor Ah Stesso Signori Eh C'è il portafoglio? No Perché? Eh no Perché devi dimmi i soldi Se arrivi a 5 Anzi Se superi 5 Se supero 5 Sì Se supero 5 Quindi C'è là il portafoglio Ah sì C'è là il portafoglio Signori C'è là C'è là C'è là Non c'è là Bene Il maestro Yes Maestro Fabio No no Ma che maestro? Io non sono maestro E che cos'è? Che sei tu? Sono un mastro Mastro lindo Mastro pulito E buona questa? Mastro pulito Mastro lindo è pelato E scogliono con Con le sovracciglia bianche Sì Ciao Comunque signori Dovrei togliere un giacchetto Perché Stavo morì di caldo A dire la verità Bene Per farla la fina Ravina qualcuno Insomma Dovrei togliere un giacchetto Dovrei togliere un giacchetto Signori Signori Non so se togliere un giacchetto O no Mi senti sì Fra un pochino No Come no? No 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 Andiamo a vedere se fa In effetti In effetti Che sia qualche posto C'è lo bello O è gli alberi Se lo troviamo Ma è sempre lo stesso posto No Stesso posto che Se non sta bene Però Ha registrato la videocamera Mi sta facendola male Mi sta facendo male la mano Come vai? Ma che so Eh Una sfida all'ultimo sangue signori Qui è sempre pieno di buche Perché hanno un buco del culo Perché hanno un buco del culo E quindi diventa un bucone Diventa un grande buco Come I bulloni Come i bulloni Derivano da bulli Bullone da bullo Bravo Bravo Quindi Quindi signori Un bullo Sarebbe un bullone Sì Signori Se sto facendo così con la mano Vuol dire che c'è la luce Perfetto Mi sa Doverai togli Il giacchetto Forse mi sa Forse sì Quindi quanto stiamo? 3 a 4 3 a 4 Signori Adesso si scende Si scende Ah quindi stai attento A non dire la parola No Stai attento sì Aspetta che Guardo il giacchetto Ok Sì Lo stai dicendo Io prenderebbe il gelato Lo sai? Davvero? Sì Che dici Che dici? Vai Vai Io vedi Però ti ho capito Prendi la pistola La pistola Dai portiamola La pistola Eh sì Signore la pistola Bisogna sempre portarla Ah signor La pistola Si porta? La pistola La pistola Signori Diteglielo Diteglielo anche voi Si porta sempre la pistola Del padrino La pistola non si porta Questo è semplice Questo si può portare Ecco qua L'ultimo gelbo La pavarella Un po' Signori Diteglielo anche voi La pistola si porta sempre Diteglielo La pistola si porta La pistola Andiamo Vediamo che succede adesso Andiamo verso il mare Ragazzi Si chiama la pistola Il maestro Come al solito Non chiude mai la porta Anzi aspettate Aspettate signori La pistola Non si porti Non si porta Perché se qualcuno Ci resta È un bel problema Un problemone Allora eccoci qua Mi sa che Aria per mare Mi sa che abbia fatto La scelta giusta Mi sa Hanno portato la pistola Mi sa Ci stavano i carabinieri Ah no Stavano i guardie di finanza Oh se ci vedevano Con la pistola in mano Il giro ci arrestavano Tantissimo Eh l'ha detto Cinque Cinque E scappa cinque Dille un'altra volta E mi devi dare I money I bagliotti I money I soldi Ho messo Quanta polizia c'è Allora vamoci Eh a spacciare Cocaine Andiamo da qua Andiamo da là Ma lo so che vorrei Andrò a prendere la pizza Adesso La pizza adesso Qui non c'è Pizza Ma ci sta la panetteria E dove sta? Qua la della scorsa volta Eh ma dove sta Sta in su Eh in su Dove si andrà a prendere la pizza Ma non è meglio il gelato No Il gelato a febbraio Vuoi prendere Certo Perché se fa freddo Eh no Perché stiamo a febbraio Perché stiamo a febbraio Quindi fa freddo Adesso però Vabbè più o meno fa freddo Perché Sta bene oggi Con il gelato Scusa È meglio il gelato Abbiamo un gelato come si pare Ma ho detto Ma dove vuoi Vuoi prendere il gelato Scusami Il gelato lo prendiamo di qua Dobbiamo ritornare ieri Ma Io direi A prendere una bella pizza È più gustosa La pizza però Non va a fare ieri Mac Mangiare un gelato Che magari è più gustosa Ho capito Ho capito Però la pizza è più gustosa La pizza Che dici Ma la pizza le fa più reingrassare Però Ma tanto ieri Si è andato al Mac Ieri Io direi Di andare a prendere Una bella pizza Tizia sì Tizia no Tizia tutta a volontà Vieni la bicicletta Ecco Se vediamo La bicicletta Qui Tutta raccordo La bicicletta Eh madonna La pari pari Eh Guarda questo che sta portando Ok ragazzi Il video finisce qui Sono alla dura di 20 minuti Ovviamente Il video finisce qui Perché se è 20 Quindi siamo in parità Lui non mi dovrà dare i soldi Io non dovrò dare gli soldi Quindi diciamo che Si è salvato Ti sei salvato Guarda Adesso proprio Vuoi dire la parola ragazzi Vuoi dirla Adesso si può dire Ragazzi Eccoci Ecco voi dammi i soldi Sto scherzando Sto scherzando Vai ragazzi Il video finisce qui Spero che Ti sia piaciuto Grazie a tutte le persone Che hanno Guardato il video Fino alla fine Seguitemi su Instagram Mi chiamo Fasen Strattino Abbasso Ole Strattino Abbasso Yt Saluta Buona giornata a tutti E buona domenica a tutti Buona domenica E alla prossima Ciao ragazzi Buona domenica a tutti Buona domenica a tutti